Assessore Di Stefano, presso la scuola Noe Lucidi è stato riscontrato un problema che riguarda soprattutto i disabili. Presso la rampa, una rampa che è sporca, quindi poco decoro, ma anche purtroppo la situazione di disagio da parte dei disabili nel percorrerla. Cosa pensate di fare? Vorrei fare una premessa prima di arrivare al punto in oggetto per far capire la buona volontà dell'amministrazione e la particolare attenzione che ha avuto sulla scuola Noe Lucidi. Fino a oggi sono stati fatti 1.300.000 euro di investimenti, è stata adeguata sismicamente, sono stati rifatti tutti gli impianti idrico e sanitari, si sta procedendo con quello elettrico. Proprio in questi giorni stiamo procedendo al restauro di tutte le finestre Noe Lucidi e arriveremo a una spesa complessiva di 1.800.000 euro. Questo per rendere l'idea che effettivamente quella scuola sarà un fiore all'occhiello di tutte le scuole terramane, poi passeremo chiaramente pure alle scuole. Per quanto riguarda il problema della rampa dei disabili, chiedo la collaborazione anche al preside e a tutti gli operatori della scuola perché vorrei ricordare che gli ingressi, gli accessi alle scuole, la pulizia tocca le bidelle. È chiaro, oggi si è ingangrenita talmente tanto la situazione che interverremo noi come ufficio ambiente e effettueremo una bonifica. Faremo il possibile per i disabili, cioè cercando comunque sia che in futuro non si verifichi. Scriverò io personalmente al preside della scuola chiedendoli maggiore attenzione e sia noi come opera cercheremo di usare quel materiale antiscivolo in modo che comunque se si crea dei problemi sia con la pioggia il disabile avrà meno problemi ad accedere.